Buongiorno a tutti e benvenuti a questo podcast settimanale. Per la seconda volta di seguito ho aspettato la domenica per realizzare il podcast perché volevo essere sul pezzo con l'aggiornarsi degli eventi e qualcosa è successo, è successo che Putin ha promesso un ulteriore upgrade del livello della battaglia in Ucraina perché a sua dire il governo locale si è rifiutato di sedersi a un tavolo di trattative che certo non aveva però i crismi della neutralità e dall'altra parte invece c'è l'inasprire come ci ha ricordato Ursula von der Leyen delle sanzioni che prevedono peraltro anche la disintermediazione di parte delle banche russe dal sistema internazionale SWIFT. Qualcuno potrebbe dire perché non tutte? Perché per esempio bisogna lasciare aperto un corridoio per pagare il gas, gas da cui paesi come l'Italia e ce l'ho appena ricordato il Presidente Draghi la scorsa settimana dipendono addirittura, gas russo da cui l'Italia dipende addirittura per il suo fabbisogno del 46%, quindi in questo momento non possiamo del tutto rinunciarci altrimenti saremmo senza una materia prima quindi importantissima, quindi senza probabilmente energia elettrica e riscaldamento per un po' di tempo. Ecco allora che in linea di massima le sanzioni partono e poi ci sono state le parole di Biden che ha detto che l'alternativa alle sanzioni è la terza guerra mondiale, quindi le sanzioni ci devono essere, devono essere valutate bene perché devono avere l'effetto di mordere a sufficienza verso chi le subisce e di avere un impatto, per quanto un impatto sempre ci sia, per chi le applica tale da poter essere sostenibili, quindi si andrà incontro a certe decisioni, per esempio ne sono state prese altre, quelle di bloccare i beni degli oligarchi, quelle di evitare di rendere disponibili i beni all'estero e anche in qualche modo di intervenire per mettere un po' nell'angolo la banca centrale russa, insomma tutte attività che però non possono dare i loro frutti nell'immediato, ci vorrà tempo prima che l'effetto di questa, chiamiamola generale, stretta creditizia verso l'Unione Sovietica sortisca il suo effetto, nel frattempo invece quello che possiamo dire è che i mercati finanziari, perché poi questo è il tema di cui sono esperto e di cui posso parlare, hanno metabolizzato, hanno già metabolizzato che in Ucraina ci sia un conflitto ed è passata per ora quella parte che noi potremmo definire di incertezza legata al contesto, le borse questo lo hanno metabolizzato con il panico di metà settimana che è diventato panic selling e poi anche in un certo qual modo panic buying, cioè quando il Nasdaq ha cominciato a reagire, le altre borse sono andate dietro e tutti si sono un po' rincorsi nel ricomprare, ecco che cosa sta succedendo ai mercati? Come spesso accade qui ci sono due fasi, la prima fase è all'inizio lo sconcerto che crea una guerra e quindi si vende perché non si conosce che cosa avviene dopo e allora tutti si portano a vendere e in alcuni casi si arriva anche al panico nelle vendite, il panico è quando non conta più per chiunque a quale prezzo ci si disfa di un bene, conta solo placare l'ansi interiore e disfarsi di quel bene, questo è il panico a qualsiasi prezzo, allora diciamo che le borse hanno visto questa fase di panico e che poi hanno cominciato invece a essere più ragionatrici e continueranno a farlo questo, come sempre succede ai mercati si guarderà chi è più, chi è meno impattato e quindi ci saranno indici o magari settori o magari azioni che non subiranno ulteriori vendite, non subiranno ulteriori perdite perché si valuterà che l'impatto di questo contesto non presenta come posso dire contesti difficili e ci saranno altri che invece saranno più soggetti, quindi la borsa sarà più mirata, più dettagliata e reagirà di conseguenza, ma di fondo rimarrà questo sottobosco di timore che potrebbe subito di nuovo elevarsi a terrore ulteriormente se ci fosse un ulteriore escalation e in quel caso sarebbe pronto a tornare a fare l'evento, quindi i mercati ora vanno affrontati con questo piglio, detto questo in questo podcast io ho dovuto parlare di finanza perché questa è la materia che devo affrontare, ma vorrei ora esprimere la massima solidarietà a tutti coloro che soffrono perché sono impotenti, impotenti e devono subire delle situazioni che non hanno chiesto, che non hanno voluto e che li vedono in una condizione che spezza il cuore anche solo a vedere certe immagini, massima solidarietà a loro, un po' come succede per me che nella vignetta subisco gli eventi perché non conosco e non so bene valutare gli impatti delle cose, ecco la stessa maniera e ancora di più vanno a queste persone, a questo popolo sotto attacco in questo momento. Cordialmente a tutti un saluto, buon fine settimana, ci sentiamo alla prossima, ciao!